Mi si perdoni se esco per qualche minuto dalla retorica dello state a casa. A proposito, restate a casa, se siete tra quelli che possono permettersi di stare a casa. E di questo volemose bene che viene proferito da tutte le parti. Non è vero che siamo tutti uguali. Non è vero che siamo tutti sulla stessa barca. Non è vero che il coronavirus sia una livella che rende i ricchi i poveri e i poveri un po' meno poveri. Anzi, in questo momento stanno uscendo tutte le disuguaglianze con forza e questa smodata moderazione forse ci imperisce di vederle. Ogni giorno mi arrivano decine di mail, segnalazioni, testimonianze di persone che lavorano negli ospedali e non hanno presidi di sicurezza. Sono quei medici, quegli infermieri, ma negli ospedali ci sono anche i metalmeccanici. Non so se lo sapete. Sono quelli che si occupano della manutenzione, di tutti i macchinari, di tutto ciò che serve, funzioni, perché l'ospedale funzioni. Sono quei medici e quegli infermieri che a ogni piesso spinto vengono dipinti come eroi e loro mi raccontano di lavorare in situazioni assolutamente precarie. Ora, ma se sono veramente i salvatori della patria, forse non dovrebbero essere i primi ad essere salvati? Cioè si può serenamente aprire un dibattito su questo? E poi ci sono i lavoratori, tanti, tantissimi. Mi scrivono continuamente testimonianze a dir poco feroci. Persone che lavorano gomito a gomito, che vengono tutelati con qualche salviettina igienizzante. Fabbriche che continuano a produrre esattamente come prima, con le stesse modalità, solo che hanno affisso qualche cartello stampato su un foglio A4 con alcune raccomandazioni. E poi ci sono le vessazioni, vere e proprie vessazioni. Fabbriche che offrono un bonus per chi non prende ferie e non prende malattie e soprattutto per chi non rompe troppo le scatole, con le norme di sicurezza. Persone che hanno a che fare con decine di persone tutto il giorno, tutti i giorni, vis-à-vis proprio uno di fianco all'altro e che si affidano e scrivono così alla buona sorte. Tutta gente ovviamente che se sta a casa non viene pagata oppure, nella peggiore dell'ipotesi, perde addirittura il lavoro, cioè non sopravvive se resta a casa. E i riders? Cioè quelli che vi portano i riders il cibo a casa? E quelli che vi consegnano i pacchi che avete ordinato su internet? Citofono, saluti, consegna, mancia, tutto. Vicino, vicino, tutto a stretto contatto. E non parlare dei cantieri. Nell'edilizia la sicurezza in molti casi, in troppi casi, era un'utopia già prima del coronavirus. Figuriamoci con il coronavirus e attenzione, tutto questo discorso vale per i lavoratori regolari. I lavoratori in nero ovviamente non esistono, non hanno diritti, hanno solo doveri. Allora, avete bisogno di una rappresentazione plastica delle disuguaglianze in questi giorni? Ecco, ci sono i senza tetto multati perché non hanno un tetto, cioè devono stare a casa, ma non hanno una casa, mangiano per strada e intanto gli hanno anche chiuso le mense. E anche questa novità molto smart, se ci pensate della scuola digitale, forse si è persa un pezzo in tutto questo dibattito. C'è gente che non ha un computer, c'è gente che non ha una connessione internet, cioè devono scontare loro questa colpa? Insomma, io credo, ripeto molto serenamente, che sarebbe il momento di riuscire a parlare anche dei diritti, oltre che di doveri, serenamente, responsabilmente, ma non fingendo, per favore, veramente, che tutto vada bene. No, questo no. Dai, buon lunedì.